se ti chiedessi da quanto tempo conosci la saga di grand theft auto molto probabilmente la maggior parte di voi nemmeno si ricorda ma una cosa è certa eravamo bambini ora lo so so che c'è gente di teneretà che mi segue e forse queste persone non mi capiranno appieno in questo video ma forse lo faranno in futuro poi ci sono tante ragazze o ragazzi della mia stessa età o lì vicino oppure persone di 10 20 anni più grandi di me e forse questi ultimi riusciranno a capirmi meglio a te chiedo quanti anni avevi quando hai ricevuto il tuo primo grand theft auto qual è stato il primo che hai ricevuto su quelle console che emozioni provavi come ci giocavi è davvero strano come passi veloci il tempo è strano vedere cambiare le prospettive e il nostro approccio sulle cose ricordo che quando ero bambino avevo un foglietto di carta con tutti i trucchi al suo interno ricordo che era un foglietto usurato in quanto utilizzavo ogni giorno ricordo che avevo difficoltà nelle missioni ricordo che non vedevo l'ora di alzarmi da letta giocare le storie che mi inventavo per passare il tempo cioè ci facevo dei veri e propri film in open world ricordo che non esisteva l'online che mi stava bene mi piaceva e davo spazio alla mia creatività inventavo io i dlc ero io il creatore dei dlc con la mia fantasia inventavo misteri trame racconti avventure ricordo che molte cose nemmeno le capivo ma neanche ci davo peso poi sono cresciuto e il mio approccio ovviamente è cambiato nel 2013 avevo 15 anni ero un po più grandicello ma sempre un ragazzino non so ora a 15 anni sono tutti molto più maturi più intelligenti a 15 anni ero molto immaturo ingenuo e sempre creativo uscì gta 5 che emozione quella special edition su ps3 anche lì quanti film ma qualcosa di diverso accadde iniziai il multiplayer in realtà l'online stava già con gta 4 ma io non ero tipo sinceramente del multiplayer e quindi non mi è mai piaciuto giocare online poi con gta 5 la situazione iniziò a cambiare iniziai ad appassionarmi quante avventure i colpi le chat vocali in lobby le amicizie le stati passate dalla mattina alla sera a los santos le gare malati death match death run aggiornamenti risate incazzature perché i nervi saltavano spesso per colpa dei caricamenti infiniti o quando qualcuno abbandonava alla fine di un colpo e dovevi rifare tutto da capo ci penso ma sono passati 8 anni ma la cosa che fa più impressione siamo noi siamo noi che siamo cresciuti siamo noi che abbiamo una mentalità più matura so che molti di voi oggi sono diventati dei papà alcuni sono diventate delle mamme so che alcuni non mi seguono più perché sono cresciuti hanno cambiato mentalità alcuni non hanno più una console alcuni non hanno più la priorità di perdere tempo davanti ai videogiochi non sarà mai più come prima non ci sarà più quella spensieratezza crescendo ma ci sarà comunque quella passione e quella voglia di tornare ad essere bambini ed è tramite questo collegamento che io voglio portarvi un insegnamento e comunque un augurio di buon natale ovvero ragazzi il mio obiettivo è quello di trasmettervi proprio questo concetto di tornare ad essere bambini voglio dirti che il tempo passa che noi cresciamo e che spesso quella creatività quell'intraprendenza quella voglia di fare che ci accumulava da bambini svanisce svanisce perché sono gli altri che magari ci limitano ci fanno vedere ci fanno vedere cose che magari non sono le uniche cose presenti al mondo ci limitano in tante cose ecco io quello che voglio dirti è il coraggio di pensarla come se fossi un bambino non sto dicendo di pensare a cose da bambini ma sto dicendo di ragionare come un bambino di stimolare quella creatività di stimolare quell'intraprendenza di essere creativi proprio come io facevo quando ero piccolo che mi creavo le storielle nel single player anch'io sono cambiato non sono più il mino il quenti del 2016 quando ho aperto questo canale andatevi a vedere un mio vecchio video sono diverso nella comunicazione sono diversi in quello che comunico sono diversi in come facci video sono diverso sono migliorato ecco noi dobbiamo tendere sempre a migliorarci giorno dopo giorno dobbiamo ragionare come se fossimo dei bambini perché i bambini non hanno paura di niente perché i bambini non si limitano perché i bambini hanno una visione ed ecco io è questo l'augurio che voglio dare oggi a tutti quelli che stanno guardando e ascoltando questo video non siamo più gli stessi di ieri e non torneremo mai più come prima ma possiamo sempre migliorare pur tenendo comunque quella creatività e quel modo di fare che avevamo tutti quanti da bambini io ragazzi con questo voglio augurarvi una buona vigilia e soprattutto un buon natale ci vediamo domani perché domani parleremo di come sia cresciuto franklin all'interno di gta 5 domani vi porto un video su di lui io nel frattempo vi auguro una buona vigilia e un sereno natale